Buongiorno a tutti, io mi chiamo Adolfo Villafiorita, sono un co-fondatore di ShareTech. ShareTech è una start-up innovativa a vocazione sociale. Noi sviluppiamo un'applicazione web che si chiama Bring the Food per aiutare a recuperare le eccedenze alimentari. Perché le tecnologie per il recupero? Perché aiutano a misurare, aiutano soprattutto a recuperare meglio e in maniera più efficiente. Noi abbiamo fatto questa scelta di collaborare strettamente con reti di recupero cittadine. Lavoriamo da anni qui a Genova con la rete di cibo che grazie alla nostra applicazione riesce a recuperare di più e a recuperare meglio.